Adrenaline Rush 99 Mi andrebbe di fare una partita con Gragas ragazzi Non so come mai Ma una partita con Gragas mi andrebbe adesso Vediamo se c'è una skin di Gragas Ci dovrebbe essere Superfan Gragas Ok superfan Gragas Pensavo di avere Scuba Duba Vabbè superfan sia Allora gli avversari hanno campioni molesti Ma ultimamente si gioca più Samira Perché la vedo La vedo più presente non so se è una coincidenza O se è stata abbaffata Ah ecco perché vedi Ma questo Gragas è super nudo Ma tra l'altro guarda come si vedono le chiappe Le chiappette tipo sai da Diciamo muratore no Abbassato che si vede un po' il culetto Ora vi faccio vedere quando cammina Gragas Aspettate Ma non mi ero mai Mi ero conto fosse così Guarda che movenza della panza Serviste da me fare l'altra spell per la passia Però Comunque stai mi sono proprio un po' avvicinato a loro Il problema è se vanno back Bisogna sempre flammare che non dellisce ragazzi Se non fossi andato il tribash Questo gank sarebbe stato actually good Good lo stesso Perfetto Questo gank non è good Questo gank è Abbiamo vinto una partita Aiuto 4 kill per 1 Ah ok E' il patrick Attenzione è il patrick Vai di ulti è il patrick Il patrick Dai ecco l'ulti di gp Che fa comodissimo Perché no Grande il patrick Non sarebbeva l'ulti Lui lo sapeva Perfetto Perfetto Bro ti spacco Non ti permetterai più Ok Ok let's go Ok let's go Questa ulti purtroppo non sembrava voler andare a segno ragazzi Però comunque i gank sono puliti Oddio guarda questo Il nano malefico Comunque il tenti piace troppo spammare il pollicione sulla gente Ok l'escape di dragos Ma perché la doppia V di Garen è una spella unbalanced Non prende più danno Cioè tu fai doppia Potevo giocarla meglio Sì Era giocata bene Abbastanza secondo me Garen champion cringe Ma perché Garen può essere così stupido La doppia V non prende un singolo danno Abbiamo perso la torre bot Beh ci sta Dopotutto Ho solo fatto 10 gank bot lane Non 20 Fammi scriccata la spella ve lo giuro Oh mio dio che sfiga Che sfiga Vabbè Ho rovinato tutto perché ho cliccato Lei per sbaglio qua nel cespuglio Mamma mia volevo farlo super invece ho cliccato Oh mio dio che rabbia Non potete capire che rabbia ragazzi Non potete proprio capire Alla fine è un 2x2 per cui non è una tragedissima Ma poteva essere tipo 2x0 3x0 Scusami E' vero la nostra bot è scarsa Io ho giocato per la nostra bot Tutto questo è vero Ma tu sei 0-1 Non hai fatto niente Sei stata Sei out farmata la vega Hai giocato come un bot Like what? Vedi la nostra bot E' sempre la canzamira Cioè no? Unlucky Tutti hanno di vita Mamma quella spell dove l'ho tirata Dove cacchio l'ho tirata Quella spell Ok abbiamo preso Ci ha messo più tempo al previsto Arrivare a vega Grazie per il sub Salve Burger Flipper Iar Ho bisogno di aiuto Lei dio della Solok Può in qualità di best jungler in Italia Darmi la sua benedizione per raggiungere il platinum? Grazie in anticipo Sparapalle Certamente posso Ah il baron Ah il baron è pieno di Draven solo No? Cos'è così La Draven è pazza Ve lo dico E abbiamo spanzati bene qui dai Aveva anche l'ignite Sì Ma miei gare anche fanno flash ignite ulti Per la vera Sì 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 no prima aspetti la doppia poi poi fai la panzata così boom fragolo stupido ti prego rakan segui me tu continua a giocare coglioni cidu che trollano questa partita assurdo ma cosa fa ma perché non segue me c'è letteralmente solo seguire me rakan rakan non è il peggiore della partita però lui non sta trollando a differenza degli altri no quindi almeno lui potrebbe cercare di seguirmi avete visto il teleport di gp ragazzi e akali vabbè ma non si può è impossibile ve lo giuro tipi per il flank il fighter qui è tipato qui diciamo diciamo a long way un super flank ma cosa ulti per questa rakan ragiona un attimino mamma gp ancora che trolla continua una continuazione è veramente endless rolling ragazzi è impossibile carriere questa allora qui perdiamo l'inibitore non credo il game anche se oddio gp in 10 devo shottare draven magari non è un problema vega è un problema il reset di viego è un problema hanno triplo tretti avversari il problema è questo gianna anche un problema hanno troppi champion forti e sono tutti messi in una condizione di carriere e visto che dalla mia trollano e penso che vedi cioè continuano a trollare questo ragazzo cioè letteralmente intentional feeling rakan vai dentro vai andiamo che questo è un'occasione sono splittati rakan proprio non ha idea comunque purtroppo cioè non è cosa sua insomma vabbè proviamo un team fight vediamo che succede preghiamo ragazzi gp comunque i danni ce li ha cioè se non trolla il problema è che trolla però se preme un bariglio in un fight possiamo vincerlo tranquillamente devo regolare per io assurdo assurdo vai rakan vai dai rakan e adesso l'exus ma prima le spiazzetto al contrario è tutto storta e vabbè vieni qua non fa niente ci hai provato bravo aiuto 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 il baron l'abbiamo preso le kill abbiamo fatte boys potrebbe essere il momento è arrivata la chiusura non vorrei illudermi però credo sia arrivata la chiusura una manina ragazzi non ti preoccupare con tutto il tempo del mondo dai a cali è top a cali è top oh gesù chiudete questo game mi prego dai vabbè non fa niente no no l'abbiamo chiuso non l'abbiamo chiuso non l'abbiamo chiuso ma porca mia ma guarda che fanno rakan ma d'aiuto cioè nel senso fate a cali è morto ma si poteva chiudere sette volte si poteva chiudere per amor del cielo dai non fa niente ci siamo ci siamo ci siamo ok ok a cali ok popping off e andiamo a chiudere questa partita ragazzi prego già non ho r anche questo è importante ci siamo redemption ci sta dai andiamo 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 è fatta è fatta è fatta è fatta comunque loro garone è troppo cattivo ragazzi è veramente micidiale il loro garone mi si riaccia ma non so se possiamo chiudere perché vegar vuol dire abbastanza però appena mi torna l'ulti up lo posso ammazzare cioè posso comunque spingerli via o forzare il fight anche se lo spingerli via dovrebbe essere abbastanza dai che sta arrivando la wave garen in due secondi oh no non sono pronto no c'è garen dai 4v1 ragazzi ok fa niente per la w bella stopwatch vabbè lei è sulla torre ma che fa questa ok samira ok ok samira orca miseria ok gp bel flash la torre fai la torre almeno ormai ok no bravo gp benissimo let's go rakan rakan con l'engage peccato la torre la torre è fatta è fatta è fatta oh mio dio si let's go ce l'abbiamo fatta che emozioni intense quella era quella con la stella gare nella ride di tre spratto grazie